Un indebitamento netto e un saldo primario in miglioramento di oltre due punti percentuali nel 2021, anno in cui la crescita economica è stata del 6,7%, dunque un decimale in più 6,6 miliardi rispetto alle stime precedenti. Con queste nuove stime aggiornate dei conti nazionali si è chiusa la settimana Istat di pubblicazioni con numeri che verranno utilizzati dal governo per comporre la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza che verrà pubblicato nei prossimi giorni. In questi dati a colpire in negativo è solamente la spesa per interessi sul debito pubblico che nel 2021 è cresciuta di 11,3 punti percentuali dopo che era calata per otto anni consecutivi. Questa settimana Istat ha anche diffuso le previsioni di popolazione e famiglie con base 2021, un insieme di dati che confermano il declino demografico del nostro paese, un paese nel quale tra poco più di 20 anni le famiglie con un figlio almeno saranno in minoranza e dove nel 2050 per esempio un italiano su tre avrà più di 65 anni e solamente uno su due avrà un'età compresa tra 15 e 64, cioè l'età convenzionale delle forze di lavoro. Le previsioni sono a livello comunale e ci dicono che entro 10 anni in 4 municipi su 5 è atteso un calo di popolazione e in 9 su 10 nel caso delle zone rurali. La settimana Istat si era aperta con due report importanti, uno sul mercato del lavoro, una nota congiunta con altre istituzioni che producono statistica ufficiale con Istat e con un report sulla spesa per investimenti effettuata dalle imprese. Nell'anno 2020 questa spesa si è fermata a 25 miliardi segnando un calo del 4,7% sull'anno precedente.